Senti! Sento, altre! Sentite? Sì, allora riposo. Schieramento, rizzo! Sento, riposo! Autorità civili, militari, religiose, signore e signori, equipaggi, a tutti gli intervenuti porgo il saluto della Marina Militare e il ringraziamento per essere presenti a questa cerimonia e come tutte quelle di omaggio e saluto finale in unità che cessa la sua vita operativa e lascia la squadra navale e ricolma dei significati emotivi e simbolici e trova tutti noi, tutti noi marinai e l'intera nostra forza armata con la mente e il cuore velati di emozioni. Vi sono particolarmente grato per l'affetto che oggi qui a Spezia così ci dimostrate, proprio perché è testimonianza di una vicinanza costante alla Marina non limitata alle circostanze festose e liete. È il rito dell'ultimo a mai la bandiera di nave maestrale ed è ancora più coinvolgente per tanti aspetti di tutte le altre cerimonie a cui siamo vituati ad assistere perché in questo caso si riferisce ad un'unità davvero emblematica della storia della nostra Marina del dopoguerra. Nasce come nave molto innovativa che evolve dalla classe Lupo e trova in questo tipo di navi un equilibrio di sistemi d'arma, di dimensioni, di prestazioni straordinarie. Ho combinato una maneggevolezza veramente di altissimo livello che consente a questa nave di manovrare con la precisione di un motoscafo. Quando era giovane questa nave faceva 30 nodi. Si fermava nel giro di due sue lunghezze invertendo dalla massima andatura avanti alla massima andatura indietro in un solo colpo di manetta. Erano navi che stupivano le altre marine e che hanno in qualche modo segnato un nuovo stile, un nuovo tipo di nave. Chiaramente questa nave andando via indebolisce la nostra Marina perché queste navi costituiscono l'asse portante delle navi, diciamo, della parte di scorta. Sono navi idonee ad affrontare minacce anche impegnative. Sono navi che sanno stare in mare con mare molto grosso. Quindi la perdita di questa nave è sicuramente un problema con cui dobbiamo confrontarci. Tra l'altro questa nave va via un anno prima della data che era stata programmata. E questo accade per la scarsità di fondi che ci impone delle scelte dolorose per cercare di concentrare le risorse, le poche risorse, rispetto, diciamo, a fronte di quelli che sono i compiti che stanno diventando sempre più gravosi per la nostra Marina. Questa nave ha, come dico, dato un esempio sia come nave ma anche come equipaggi. L'equipaggio è come comandanti. Su questa nave sono passati i migliori tra i comandanti. Era la nave, è stata a lungo, la nave numero uno, la prima della classe. E quindi saluto qui tutti gli ex comandanti di questa nave, gli ex equipaggio di questa nave che sono presenti numerosi. Saluto l'equipaggio della nave e il comandante che l'ha in persona. La nave ha fatto un giro intorno all'Italia importantissimo che è servito molto non solo a evidenziare il problema della Marina Militare che sta perdendo le sue navi in maniera cospicua, 50 navi nei prossimi dieci anni, ma anche a riallacciare dei legami tra la Marina e le popolazioni dei principali porti, delle principali aree costiere che nei secoli hanno sempre mantenuto un legame emotivo, culturale con la Marina Militare e con il mare, ovviamente. E questo è una delle sfide più difficili che dobbiamo affrontare ed è quella della consapevolezza del destino marittimo dell'Italia. L'Italia non ha del tutto chiaro la popolazione, l'opinione pubblica, non ha chiarissimo il fatto che la nostra nazione dipenda integralmente per la sua sicurezza e la sua prosperità dalla fruizione del mare e dalla sicurezza che è necessaria in mare per operare efficacemente sia a livello mercantile che più in generale a livello anche della pesca. Non dimentichiamoci che l'Italia tuttora ha una flotta mercantile che tra le più importanti del mondo è tra le prime dieci per tonnellaggio, come è proprio bandiera italiana. Se poi a questa si aggiungono le navi con bandiera straniera di proprietà italiana saliamo moltissimo nella classifica. Siamo la terza flotta peschereccia del mondo e nel Mediterraneo passa più dell'85% dell'energia che viene in Italia e in generale la grandissima maggioranza dei beni che in Italia vengono lavorati e poi esportati delle materie prime e di tutto quello che l'Italia poi trasforma in prodotti di alta tecnologia o prodotti comunque made in Italy. Quindi è evidente che il nave mestrale deve trovare una sostituzione al più presto così come le altre 50 navi. In questo senso tutti ormai sapete che è stato avviato una prima parte del programma di rinnovo della flotta che dovrà cercare di sostituire queste 50 navi. i cantieri attualmente lavorano al 50% del loro potenziale e quindi è l'avvio di questo nuovo gruppo di costruzioni sono in sostanza 10 navi nuove e che come la classe maestrale ha rappresentato a suo tempo una nave innovativa ecco vede in questo gruppo di 10 navi in questo gruppo di 12 navi 10 delle quali sono pattugliatori d'altura che sono un po' più grandi della classe maestrale che sono però molto diversi molto diversi nella conformazione e nell'uso e nella polivalenza d'impiego che include in maniera molto importante anche una parte a supporto della popolazione civile in caso di calamità naturali quindi si tratterà anche questo di navi che interesseranno molto anche l'esportazione che cosa succede del maestrale il maestrale va ad accumularsi purtroppo con le navi qui in attesa di dismissione e qui il tema della dismissione è naturalmente un tema delicato perché sempre più il riciclaggio dei materiali nobili che sono sulle navi diventa appetibile sotto il profilo commerciale però è evidente che la Marina Militare non eserciterà pressioni di nessun tipo e la nave se non dovesse essere venduta come io mi auguro che possa continuare a navigare sotto un'altra bandiera di un paese amico se non dovessimo riuscire a venderla è chiaro che dovremmo avviarla appunto alla dismissione la sua demolizione dove farlo beh questo dipenderà dalla città di La Spezia se la città di La Spezia riderà di volerle che questo accada in questa area in questa zona si farà così altrimenti la nave sarà portata altrove voglio evidenziare un altro aspetto importante che è quello che riguarda l'attività che stiamo conducendo in mare ogni giorno e che ha visto il maestrale protagonista anche se ferita ormai perché la povera nave ha alcune ordinate e alcune costole come una vecchia signora un po' doloranti non ha più una delle sue turbine e nonostante questo grazie al suo equipaggio questa nave è in splendida forma e ha partecipato all'operazione Mare Nostrum che è stata un'operazione che è diventata un case study in tutte le marine del mondo ed è un case study che si è potuto determinare nella sua essenza non solo per la capacità degli equipaggi che la sensibilità umana la professionalità perché non dimentichiamoci che si tratta di operazioni estremamente delicate complesse dal punto di vista marinaresco non si tratta affatto di operazioni banali di giorno di notte spesso in situazioni anche rese più difficili dalla incerta natura della minaccia e della presenza potenziale di terroristi che operavano che potevano operare nelle stesse acque in cui si doveva sviluppare il soccorso ma anche dalla bontà della costruzione della nave nave così anziana che è riuscita appunto a compiere perfettamente le missioni che gli sono state affidate e l'ultima dicevo il giro dell'Italia ha visto questa anziana signora fare tutta la sua missione praticamente senza avarie come spesso accade le navi non vogliono morire ovviamente non sono le navi ma le navi particolari in particolare alla fine sembra che ringiovaniscono questo ultimo anelito di efficienza e di efficacia quindi piange ancora di più il cuore a vedere questa nave così bella così ben tenuta che va via noi continueremo naturalmente a lottare e a promuovere e a convincere diciamo a promuovere l'idea che l'Italia non possa avere una marina che non sia all'altezza del ruolo che la nazione deve avere può avere per la storia millenaria della nostra nazione e per il potenziale del nostro popolo come elemento di stabilizzazione e di pace internazionale quindi poiché l'Italia è una diciamo è un braccio teso nel Mediterraneo la posizione geografica oltre che la storia impone una marina adeguata è nella natura proprio delle cose qualunque analista con una certa acutezza basta che apra un atlante noterà che intorno alla penisola non c'è il giallo del deserto ma c'è il blu del mare quindi già voglio dire senza ricorrere a grandi centri studi si può capire comprendere come l'Italia non sia fatta solo da montagne e non sia circondata da deserto ma appunto circondata dal mare quindi è necessario è indispensabile che l'Italia abbia una marina che si confronti con tutte le altre marine del Mediterraneo in posizione chiaramente di guida di leadership questo perché il ruolo della nazione in Mediterraneo nel Mediterraneo nel senso più allargato non può che essere un ruolo di leader e di leadership e questo ritengo che sia indispensabile per la nostra sicurezza prima di tutto un grazie di cuore dal profondo del cuore veramente oltre agli uomini del maestrale a tutti gli ufficiali i sotto ufficiali le maestranze i graduati i marinai le maestranze civili dell'arsenale il personale dell'arsenale le organizzazioni sindacali che hanno sostenuto e sostengono l'interesse nazionale nel senso quanto riguarda diciamo gli aspetti industriali gli aspetti del lavoro tutto quello che riguarda l'efficienza delle navi mi riferisco al personale della stazione navale e al personale dell'arsenale la stazione navale ha fatto dei miglioramenti incredibili questa base è rifiorita pur in una presenza di fondi più ridotta le maestranze civili sono l'asse portante dell'arsenale lo sforzo per riuscire a riaprire il turnover non si interrompe mi rendo conto che ancora non si è vista la luce così come per il piano Brin per Taranto siamo riusciti a ottenere il finanziamento io sono fiducioso ripeto che il ministro riuscirà a trovare intanto dei fondi per il prossimo anno per riavviare e accelerare il piano Brin qui a Spezio Spezia rimane una delle nostre basi più importanti senza dubbio quella dal punto di vista tecnologico e quella dell'investimento in termini di sperimentazioni e di innovazione che è il cuore appunto di questo settore per quanto riguarda la Marina Militaria al sindaco alle autorità civili e militari qui presenti rinnovo la mia gratitudine per la loro presenza e per il loro sostegno e con questo chiudo il mio discorso il mio intervento con questo auspicio che tutti voi possiate presto navigare su navi che siano degne della vostra capacità della vostra professionalità del vostro entusiasmo e che siano all'altezza della di quello che ha fatto il maestrale delle capacità di questa nave e che siano all'altezza dei compiti che la nazione dovrà appunto affidare viva la Marina viva il maestrale viva l'Italia grazie